La prevenzione delle malattie renali deve cominciare già in età giovane. È in crescita la malattia renale cronica e si prevede che aumenterà del 17% nel prossimo decennio, tanto che è stata riconosciuta dall'OMS come un problema di salute pubblica globale. Il 10% della popolazione italiana adulta è a rischio di malattia renale, ma di questi ben 6 su 10 non lo sanno. Secondo i dati dello studio CARES, la prevalenza è del 7,5% negli uomini e del 6,5% nelle donne, per un totale di circa 4-5 milioni di pazienti. Tra le malattie croniche, la malattia renale è al primo posto per rilevanza epidemiologica, gravità e invalidità, peso assistenziale ed economico. Ad esserne colpiti sono anche molti bambini che possono essere a rischio già in età precoce. Tra gli 8 e i 13 anni, lo studio Italchida ha riportato un'incidenza di 12,1 casi per anno per milione di abitanti e una prevalenza di 74,7 per milione. Per sviluppare un infarto, i costi di queste patologie rappresentano una cifra enorme, dall'1 ai 2 punti di PIL. È necessario quindi fare prevenzione di primo livello. Per capire se c'è un rischio di danno renale, basta un esame delle urine e un controllo della pressione. Quest'ultima, quando è troppo alta, mette a rischio i reni, così come il cervello e il cuore. Purtroppo non c'è un segno preciso, un dolore riconoscibile, che possa aiutare a capire che serve intervenire precocemente. Ma quando iniziare i controlli? Secondo Roberto Palumbo, direttore della unità di nefrologia e dialisi dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, l'analisi delle urine è uno straordinario strumento per capire molte cose. E a meno che non ci siano malattie in corso, basta ripeterlo una volta nell'età pediatrica, una in adolescenza e dopo i 50 anni, una volta all'anno. Il campanello di allarme è la presenza di sangue e di proteine che devono essere assenti perché filtrate dai reni. Anche il sovrappeso e l'obesità sono fattori importanti di rischio dai quali proteggersi. Molte patologie renali sono completamente curabili, altre possono essere stabilizzate sia pure con gradi diversi di compromissione funzionale, altre ancora evolvono verso l'insufficienza renale terminale con la conseguente perdita quasi totale della funzione degli organi. I comportamenti più a rischio sono il mancato controllo della pressione, il mancato utilizzo di farmaci, reno protettori, le displipidemie come l'ipercolesterolemia, il diabete, le malattie cardiovascolari, l'utilizzo eccessivo di farmaci e le diete sbagliate. Alcuni classici sintomi tipici delle fasi precoci e delle malattie renali sono la presenza di sangue nelle urine, il gonfiore del volto e degli arti inferiori eventualmente associato a contrazione della diuresi, l'aumento o una diminuzione della diuresi, bruciori e difficoltà urinare associate eventualmente a febbre.